Giacomo, è periodo di ritiro precampionato, si dice di non fare molta attenzione a quelli che sono i risultati fino a questo momento, in questo periodo della stagione, però almeno per adesso i responsi sono buoni. Sì, sì, per adesso sono responsi positivi, poi ovviamente il calcio d'agosto è sempre un calcio a parte, però se riusciamo a tenere questo ritmo anche in campionato sicuramente faremo una bella stagione. Vieni da un settore giovanile importante, quello del Sassuolo, che ambiente hai trovato qui a Teramo, che stai trovando? Ma sicuramente è un bel ambiente, anche i compagni di squadra sono giovani, però è un gruppo sano, quindi mi sto trovando molto bene, c'è il giusto quantitativo nel gruppo di ragazzi più veterani e di ragazzi giovani, quindi si sta molto bene. Parlando delle tue caratteristiche, sei un esterno un po' tipico, perché sei abbastanza prestante fisicamente? Sì, sì, fisicamente me la cavo, perché sono anche abbastanza veloce, quindi sicuramente posso fare tutti e due gli esterni, sia sinistro che destro. Poi ovviamente in passato ho giocato anche da punta centrale, quindi sicuramente posso ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attacco. E c'è non poca concorrenza lì davanti, anche con gente esperta? Sì, sì, sicuramente c'è tanta concorrenza, però si dice che la concorrenza aiuti anche i giocatori, sia quelli in panchine che quelli titolari, quindi sicuramente ci daremo una mano tutti assieme. Quando sei arrivato, per quale obiettivo ti hanno detto che concorrerà il Teramo? Ma sicuramente partiremo con l'obiettivo della salvezza, perché dovremmo mettere via più punti possibile per raggiungere la quota che è di solito sui 40 punti. Poi se riusciremo a raggiungere quella quota potremo anche provare a raggiungere altri obiettivi, però l'obiettivo primario è la salvezza. A parte gli altri ragazzi che arrivano anche loro dal Sassuolo, conoscevi altri giocatori già qui presenti in Rosa? Conoscevo solo Ferretti perché ho condiviso la preparazione l'anno scorso con lui a Cremona e gli altri li ho conosci tutti ora.